Parlare di ripresa e parlare anche di sostenibilità sono due temi sicuramente molto connessi. Il tema della ripresa è legato a uno dei temi che sono stati affrontati durante il Salone, cioè quello della coesione. Senza coesione, senza comunanza non ci può essere ripresa. Noi lo abbiamo fatto durante il periodo Covid, essendo vicini alle imprese, ai privati con sospensione di rate, con moratori, con plafond per oltre 5 miliardi e finanziamenti agevolati alle PMI. Lo abbiamo fatto mettendo a disposizione con erogazioni liberali circa 4 milioni di Euro per le nostre comunità, sia per l'assistenza sanitaria sia per l'emergenza economica e questo è un tema che ci porta alle tematiche della sostenibilità e degli ISG, che sono estremamente concreti, quindi anche qua è un tema valoriale, ma è un tema anche proprio di messa a terra, nel senso che vi sono delle normative, vi sono interesse delle autorità, della vigilanza, della Commissione Europea, della Banca Centrale Europea, nel caso di noi banche, quindi noi dobbiamo andare in questa direzione, lo stiamo facendo come Banco BPM, avendo creato un comitato ISG preseduto all'amministratore delegato, è una struttura di sostenibilità che ha la funzione di dare impulso e di accelerare il più possibile sulle tematiche ISG che intendiamo adottare.